sono io nella vita reale che bello e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua su un gioco che per ora nessuno abbia portato in italia e io ora non so se riuscirò a portarlo nel primo in italia comunque incominciamo questo qua si chiama hello neighbor 2 questa qua è un alfa poi non me l'hanno ne date in anteprima ok eccomi raga siamo nella più azione totale allora no sono negro raga c'è il motion blur no raga scusate se ti interrompendo tante volte però capisco perché tipo c'è il motion blur vabbè mi sa proprio che vedete che comunque siamo dentro sono io nella vita reale che bello allora eh porco due allora iiii curvi 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 i lag allora no raga scusate se sto fermando ogni tanto anzi pure un po' roppo però che c'è che fa lagare tutto i effect li mettiamo a normal ed è cresciato il gioco ah no ok continuiamo così forse andrò ma che c'è il corso ma che ma salva amichetto si divertente come se non lo fosse mai via qua dentro come nel gioco raga che è il corvo iiii vi 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 ricco via quanto faccio cagare all'onibor corvo di merda ma che cazzo si prende un oggetto mi sa leggermente aia è diventato pure lui più forte che merda aiuto aiuto merda 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 mi ha cacciato stronzo oh sarai merdoso ma ma ero sotto la mia proprietà aia ma che cazzo è successo why vabbè ti posso frottere almeno gli oggetti e no qualche financia oi god ha handicappato di merda e no ho sbagliato prendi questo su per il culo merda mmm non so no la logica di questo gioco è davvero fantastica ma salve corvo ne vado in casa sua no problem ma là c'era un serpente o sbaglio no salve corvo via cazzo si giocava è lo nebo raga carissimo ti hanno dato la scopa su per il chiurlo raga ovviamente tutte se parolacce lo cazzo è il corvo carissimo amico allora in questo alfa qua che cazzo quello dovremmo fare allora un attimo corvo regalino esattamente no e tu non mi prendi però vabbè aspetta voglio vedere una roba raga facciamo un piccolo troll ho bagato tutto che bello che bello bagare cose a caso ah ma tu si coglione figlio mio però eh no eh però eh stavo scherzando ah ah eh ma come con quale forza poi me lo vuoi dire ok va bene piatti piatti eh allora io posso sfondare le finestre come i veri eh no stavo scherzando ma porco dia cioè lui come fa ah cioè lui mi prende così che bello ho qualcos'altro raga questo qua mi sembra che è il continuo di hello guest un gioco che dovrei portare però raga sapete non mi va cioè perché tanto non me lo guardate voi carito infatti ho una telecamera come che faccio aspetta ne posso mettere una la no no le tue micchiate sono tante però non sono come le mie ma che adesso qua da quello che ho visto nel trailer vabbè essere il vicino aspetta messa credo sì l'ho messa ah godo ora andiamo a vedere chi c'è in bagno ma ma come ma l'avevo appena messa la telecamera ma eccola allora abbiamo capito che tu si scemo aspetta magari abbiamo qualcos'altro dentro il camion chissà ma perché qua si può continuare non mi dire si può continuare ah si raga perché questo qua esattamente è continuo di hello guest quindi oh è una sorta di open world bello tanto non posso prendere un accidenti che bella la victa allora ho fatto da anni ok e qua no non mi hai visto vero ecco guidiamo ragazzi secondo me che si è in gioco qua l'ha inventato Antonio ok sono qua che cos'è questo guarda oh i passi oh ciccio falso magro madonna no non mi senti tu guarda quanti fottutissimi i corvi si fa i corvi lui la notte invece della marivana normale ho visto qualcosa tentational mando eh niente qua dentro ok posso andare thanks la mando eh che questo qua mi sa che lo facciamo in 3-4 episodi eee raga e vabbè noi ci sentiamo a un prossimo episodio perché qua non so cosa fare esattamente non c'è manco le finestre vogliamo vogliamo vedere se riesco a truffarlo allora vorrei fare un attimo una speedrun così proprio alla cancra di cane allora facciamo così prendiamo questo allora come si sale cioè vorrei capire raga un attimo qua che cavolo si fa salire dei quadri no non credo poi poi raga ho visto che le meccaniche comunque sono diverse infatti ora se noi lanciamo un oggetto a qualcun altro tipo va più bello vabbè dai raga io dico che ci possiamo sentire a un prossimo episodio eee perché qua c'è una X non lo so what the fuck hai corvi è vero hai messo una trappola l'infame hai capito si è rimodernato vabbè tu intanto che fai il nigga noi raga ci vediamo un prossimo episodio salviamo così siamo tutti felici e contenti da X e Prega 69 è tutto ciao prosta panza porco 2 che cavolo vabbè 3 Grazie a tutti.